Ok, allora, vediamo adesso un altro tipo di transistore a effetto di campo, che è quello che si chiama MOSFET. FET vuol dire quello che abbiamo visto prima, cioè letteralmente transistore a effetto di campo. MOS sta per Metal Oxide Semiconductor. Questa struttura metallo-ossido-semiconduttore, struttura cosiddetta MOS, è quella che definisce il MOSFET. Tenete presente che ad oggi di gran lunga i MOSFET sono i transistori più diffusi. Quindi se, qua insomma direi che abbondantemente è più del 95% di transistori in circolazione su MOSFET. I microprocessori, quella roba là, insomma tutto lavora con MOSFET. Il resto è limitato a casi applicazioni abbastanza di nicchia. Quindi dobbiamo dedicarci attenzione. Vediamo un po' in che cosa consiste questa struttura MOS, prima di tutto. Dunque anche il MOSFET è un dispositivo planare, quindi immaginiamo di guardare una sezione di una fetta di silicio. Il MOSFET è realizzato in questo modo. C'è una regione con diffusione tipo P, in particolare guardiamo un MOSFET a canale N. Vengono fatte due diffusioni più piccole di tipo N+. Viene cresciuto uno strato di ossido. E sopra ancora viene posto un metallo. In pratica abbiamo un contatto metallico qua sopra. Questo contatto corrisponde al gate. e questi due pozzetti drogati N+, corrispondono ai due terminali di source e di drain. Questa è una geometria super semplificata di come è fatto un MOSFET in sezione. La struttura MOSFET è esattamente questa. Vedete? Semiconduttore. Questo è il semiconduttore. Questo qui è l'ossido. E questo qui è il metallo. È metallo, ossido e semiconduttore. Quindi questo sandwich, metallo, ossido e semiconduttore, definisce il dispositivo MOSFET. L'ossido è un materiale isolante e ha compito di isolare elettricamente il contatto di gate dalla regione P di semiconduttore dove avviene la conduzione della corrente. C'è proprio una separazione elettrica. Questo è sempre necessario nel transistorio effetto di campo perché noi vogliamo che la tensione sul gate influenzi la corrente tra drain e source ma senza causare una corrente di gate. Quindi, per esempio, questa cosa veniva garantita nel JFET perché si polarizzava inversamente l'aggiunzione PN. Quindi in pratica non si faceva passare corrente nel gate. Qui invece si garantisce isolando con un ossido il gate. Quindi quell'ossido è un materiale isolante che non fa passare corrente tra il gate e il resto del dispositivo. E questa è la caratteristica generale dei FET. Noi nei FET vogliamo sempre fare in modo che attraverso il gate non passi corrente o diciamo al massimo passi una corrente trascurabile come la corrente di saturazione inversa dell'aggiunzione PN una corrente approssimabile a zero. Allora, stavo dicendo MOSFET sono dispositivi su cui c'è stato più progresso negli ultimi anni negli ultimi vent'anni e su cui continua a esserci progresso molto forte e progresso legato a tanti aspetti diversi. Il primo aspetto è la riduzione delle dimensioni. Sono 40 anni di più, 50 anni che si mettono in atto ogni anno tecniche per ridurre le dimensioni dei MOSFET e siamo passati da MOSFET di lunghezza 10 micron nei primi circuiti integrati ad ora MOSFET di lunghezza di canale 22 nanometri. scusate la lunghezza di canale è quella che c'è tra qua e qua cioè la lunghezza di questo contatto di gate la separazione tra source e drain questa qui si chiama lunghezza di gate o lunghezza di canale perché più o meno le due cose coincidono e a fine 2012 per esempio Intel ora quest'anno anche Samsung ha fatto uscire il cosiddetto processo 22 nanometri che vuol dire che questo è lungo 22 nanometri l'anno prossimo nel 2014 ecco nel 2010 è uscito il 32 tanto per capire come cala le dimensioni nel 2014 il 14 nanometri è atteso questi sono gli ultimi iCore 5 dell'Intel cioè non è che sono non sono cose esotiche sono quelle cose si comprano normalmente anche credo i prossimi come si chiamano A5X di Samsung si hanno 22 nanometri A5X sono quelli che vanno nell'iPhone Neofone 5S prossimo e sono 22 nanometri anche quelli e molto la riduzione delle geometrie è molto importante perché corrisponde a una riduzione dei consumi forte e a un aumento del numero di funzioni su un singolo chip perché di fatto a parità di dimensioni del pezzo di silicio che costituisce il chip più piccoli sono i transistori più si riescono più transistori si riescono a mettere questo per alcune cose è ovvio il vantaggio nelle memorie più o meno un transistore tiene un bit quindi più transistori metto più bit metto nelle flash per esempio nei microprocessori comunque più transistori metto più aumento le funzionalità poi ora 5-6 anni ormai ma 5 anni direi quello che sta succedendo è che le funzionalità nei chip non aumentano tantissimo quello che sta succedendo aumenta il numero di core non so se c'è qualcuno di voi segue un po' di notizie su queste cose di fatto nel momento in cui passo per esempio dal 22 al 14 nanometri immaginate cosa è successo che l'area di un singolo core di uno stesso blocco si è ridotta della metà quindi vuol dire nella stesso pezzo di silicio metto due core invece di uno questo è quello che sta succedendo ora io non ricordo bene per esempio la 5x mi pare che sia 8 core negli ultimi anni per vari motivi a cui non tocchiamo quello che sta succedendo è che di fatto non aumentano più le frequenze di funzionamento ma aumentano il numero di core per chip sia sui processori per diciamo terminali mobili sia per i processori per i calcolatori e server eccetera la direzione è quella e si pensa ad andare su parecchio qualche centinaio di core nei prossimi diciamo vent'anni e più o meno i passi sono questi ogni due anni si riesce a raddoppiare il numero di core quindi si fate conto è abbastanza ragionevole prima che anche quello smetta di rendere ora il dispositivo che vi ho disegnato io è molto molto idealizzato questi processori 22 nanometri questi transistori 22 nanometri o quello anche 32 nanometri sono abbastanza diversi nel senso che per esempio sono fatti di silicio ma ci sono degli impianti di germano significativo poi ci sono il transistore sottoposto a stress ci sono delle coperture che vengono realizzate in modo da tendere il materiale modificare le distanze interatomiche in modo da incrementare le prestazioni e poi anche l'ossido è un ossido complicato di solito un multistrato per garantire una corrente di gate bassa di fatto le strutture cambiano molto nel 22 nanometri c'è stato un passo molto una variazione molto significativa la struttura non è più planare non è più fatta su una fetta così ma è fatta su una pinna fatta una pinna di silicio e poi il gate quindi invece di avere una fetta di silicio su cui il gate è appoggiato sopra ho una pinna di silicio che avvolge il gate e il gate è avvolto intorno alla pinna non so se qualcuno vuole sentire la mia si chiama finfet fin appunto le strutture stanno cambiando parecchio però diciamo noi adesso ci manteniamo nel cercare di capire tanto il funzionamento della struttura di base poi in realtà tutte le varie modificazioni si capiscono abbastanza facilmente quando la struttura di base è chiara allora come vedremo tra un attimo il funzionamento non è tanto diverso da quello di un J-FET i FET si assomigliano un po' a tutti allora innanzitutto vediamo il funzionamento di questo dispositivo allora la cosa che dovreste notare è che questo MOSFET è a canale N ma qui la regione tra drain e source è drogata P va bene in condizioni normali diciamo io ho una giunzione N più P tra il source e il diciamo il corpo del del semiconduttore e poi ho un'altra giunzione PN dall'altra parte tra il corpo del semiconduttore e la regione D questa parte qui lo sto chiamando corpo ma in realtà com'è chiamarlo appunto corpo cioè in inglese si chiama body quindi il source è body e un'altra giunzione PN tra body e source quindi se io volessi andare a disegnare diciamo immaginando un percorso tra source e drain l'andamento dell'energia potenziale per gli elettroni io cosa vedrei vedrei una barriera tra N più e P e un'altra barriera P e N più quindi andiamo a disegnare un attimo io vedrei una questo è il source questo è il drain io vedrei una barriera così N più P e poi N più gli elettroni che sono qui non passano no quindi in sostanza due giunzioni PN contrapposte la corrente non passa e in effetti nel dispositivo che vi ho disegnato diciamo se non faccio niente di particolare la corrente non passa tra i due in sostanza perché c'è una barriera molto forte allora come si fa a far passare la corrente vediamo prima la cosa dal punto di vista energetico allora guardando l'energia potenziale ecco io questo non l'ho scritto è meglio che lo ve lo ricordo questa è energia potenziale quindi allora barriera alta drain e source isolati allora come faccio beh il modo per abbassare la barriera è questo io applico una tensione positiva sul gate allora guardate se applico una tensione positiva sul gate alzo il potenziale anche qua all'interfaccia tra silicio e ossido se alzo il potenziale all'interfaccia tra silicio e ossido vuol dire che sto abbassando l'energia potenziale per gli elettroni ok quindi se applico una Vgs maggiore di zero riduco l'energia potenziale per gli elettroni all'interfaccia silicio cioè semiconduttore per essere precisi semiconduttore ossido perché proprio lì la riduco beh perché quel punto è il punto più vicino all'elettrodo chiaramente lo riduco un po' ovunque ma a quel punto lo riduco molto di più allora che cosa succede se riduco l'energia potenziale ho che mi viene una cosa così no anzi può anche venire così proprio la posso ridurre completamente la barriera e quindi questo vuol dire che a un certo punto gli elettroni diffondono anche nella regione tipo P quindi la barriera si abbassa gli elettroni la barriera si abbassa gli elettroni diffondono sotto l'ossido e quindi si forma il canale vedete cosa succede a questo punto si è formato un canale di elettroni tra la zona S e la zona D poiché questo canale è di elettroni io dico che è un canale N per questo il MOSFET lo chiamo di tipo N anche se la regione P perché infatti in effetti quello che è successo è si è formato all'interfaccia tra il semiconduttore e l'ossido uno strato di elettroni che hanno diffuso tra source e drain d'accordo? quindi questo è quello che è successo abbassato la barriera sono arrivati gli elettroni a questo punto il dispositivo conduce no? perché c'è una continuità di elettroni mobili tra source e drain si applicano le differenze potenziali tra source e drain questi elettroni subito si spostano quindi passa corretto ok? questo è il meccanismo si dice anche che in questi casi si ha l'inversione del canale perché originariamente il canale era di tipo P quindi era un canale di lacune mentre invece adesso l'interfaccia è diventato tipo N cioè è pieno di elettroni va bene? quindi oh questa cosa qui succede all'interfaccia perché succede all'interfaccia perché chiaramente è all'interfaccia che la barriera si abbassa di più piuttosto che in profondità ok? l'interfaccia è più vicina al gate e poi perché nell'ossido comunque gli elettroni non ci vanno d'accordo? quindi quello è il punto più vicino dove possono andare e lì vanno ok? da un altro punto di vista potete vedrelo così io applico un'attenzione poesiva sul gate e questo attira gli elettroni no? gli elettroni attira chiaramente nell'isolante gli elettroni non possono attraversare l'isolante si fermano nell'interfaccia se volete potete vedere anche in questo modo però in generale come spiegarla in termini di energia potenziale per gli elettroni è più efficace ok va bene sì 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 non ho capito la domanda sì dunque interfaccia vuol dire letteralmente la superficie che separa due materie diversi no? quindi è questo piano no? perché sotto c'è questa zona che ho chiamato S dove c'è il semiconduttore e questo invece è ossido quindi questo piano qui che è rappresentato in nero è l'interfaccia tra due materiali ok? ok è una definizione letterale nel senso di qualsiasi argomento parli interfaccia vuol dire superficie separazione tra due cose diverse ma ban 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 allora convenzionalmente si definisce una tensione che si chiama tensione di soglia ma questa è un'attenzione che corrisponde a una definizione convenzionale perché chiaramente questo effetto qua della formazione del canale avviene in modo graduale no? man mano che la barriera si abbassa è più facile che gli elettroni arrivino dentro la zona P e a un certo punto saranno la barriera è così bassa che gli elettroni saranno tutti arrivati nella zona P il processo è graduale all'aumentare di VGS d'accordo? per comodità spesso però conviene rappresentarlo in modo rappresentarlo con un comportamento a soglia quindi come se avvenisse in modo brusco quindi per comodità si dice che fino a un certo valore di VGS in pratica la carica è trascurabile come se non ci fosse ok? sopra un certo valore di VGS dico che il canale si è formato ok? questa tensione convenzionale è quella che si chiama tensione di soglia quindi è una soglia che mi consente di dire in modo approssimato non c'è il canale c'è il canale voi dovete tenere presente che si usa molto la tensione di soglia e che però contemporaneamente è un'approssimazione perché il canale si forma in modo graduale però è un'approssimazione che fa molto comodo quindi noi la adoperiamo ricordandoci che è un'approssimazione allora in inglese tensione di soglia si dice threshold voltage threshold che è la soglia voltage che è la tensione ok? threshold voltage è Vth si rappresenta si scrive Vth dove questo Th è Th e Th è il threshold allora quindi in realtà l'approssimazione mi fa dire che se Vgs è minore di Vth il canale non si è formato se Vgs è uguale a Vt maggiore o uguale di Vth il canale si è formato ok? allora Vth è questa qui è un'approssimazione ok? lo scrivo così ce lo ricordiamo e poi Vth è una grandezza convenzionale una quantità convenzionale dico anche qual è la convenzione convenzione con cui si definisce è si dice che Vth è la tensione che bisogna mettere tra gate e source per fare in modo che la concentrazione di elettroni nel canale sia uguale alla concentrazione di acettori nel canale il canale è delogato Pi quindi la Vgs per cui la concentrazione di di elettroni per essere precisi all'interfaccia che cambia nel canale all'interfaccia silicio è semiconduttore ossido è uguale uguale alla concentrazione di acettori ok quindi la Vgs per cui la concentrazione di elettroni nell'interfaccia semiconduttore ossido è uguale alla concentrazione di acettori nel canale ripeto è una quantità effettivamente convenzionale è scelta a modo ragionevole perché ha un senso però noi non entriamo nel dettaglio né di come si calcola né di come si ottiene per noi è importante quella quella cosa se Vgs è minore Vth il canale non si è formato se Vgs è maggiore o uguale a Vth il canale si è formato dunque allora vado avanti drain e source sono anche nel MOSFET praticamente intercambiabili ok com'è che si riconosce qual è il drain e qual è il source beh anche qui c'è una convenzione per riconoscerli se il MOSFET ha canale N la Vds è positiva quindi il source è l'elettro a tensione più bassa il drain è l'elettro a tensione più alta quella è la convenzione ok quindi in un MOSFET tra i due elettrodi si chiama il MOSFET a canale N tra i due elettrodi il source è l'elettrodo a tensione minore quindi per definizione la Vds è sempre positiva questo vale anche nel GFET a canale N ok allora aspettate questo lo scrivo qua così rimane per convenzione il source è il terminale anzi che è la stessa cosa però scriviamo con meno parole no meglio scriverlo con più parole il source è il terminale a tensione minore sempre rispetto al drain il gate si riconosce perché è fatto in modo diverso in un'altra posizione ok allora ecco sempre rispetto a questa convenzione che definisce la tensione di soglia noi diciamo che la va bene va bene è detto così va bene così non voglio entrare più nel dettaglio allora facciamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per il JFET per vedere le regioni di funzionamento allora mettiamoci a consigliare la superficie questo è il contatto di source questo è il contatto di drain e poi vediamo il gate ok dunque allora abbiamo detto se VGS è minore di VTH il canale non si è formato la corrente non passa siamo in interdizione ok quindi il problema non ci interessa più adesso vediamo che succede se VGS è maggiore di VTH allora mettiamo il source a massa tensione nulla e quindi applichiamo una tensione positiva VDS al drain quindi immaginiamo di essere una situazione VGS maggiore di VTH quindi il canale si è formato ok e poi immaginiamo di avere primo caso VDS piccolo va bene come abbiamo fatto prima allora che cosa vuol dire se VDS è piccolo praticamente VGS è circa uguale a VGD no e quindi il canale è all'incirca uniforme uniformemente popolato ops io come faccio a descriverla a disegnare la popolazione del canale faccio una regione diciamo così io non riesco a rappresentare in una terza dimensione quanti elettronici sono nel canale no quindi faccio un strato un po' più spesso quando ce n'è un po' di più uno strato un po' meno spesso quando ce n'è un po' di meno bene quindi io qui ho una regione di questo tipo questo si comporta come una resistenza quindi applico una piccola VDS passa una corrente ID nella direzione tra drain e source ovviamente gli elettroni si spostano in un'altra direzione ma tra parentesi notate il nome degli elettroti source vuol dire sorgente drain vuol dire pozzo perché in effetti gli elettroni escono dal source e vengono raccolti dal drain quindi escono dalla sorgente e vengono raccolti nel pozzo e quando aumento la VGS cosa succede? se aumento la VGS attiro più elettroni nel canale quindi la conduttanza del canale aumenta e quindi a parità di VDS aumenta la corrente io mi devo sempre ricordare la corrente di deriva come è fatta la corrente come è Q per A per N per mu per campo a parità di VDS il campo è proporzionale a VDS va bene quindi a parità di VDS quando aumento G aumento N perché aumento il numero di concentrazione di elettroni che sono nell'interfaccia e quindi mi aumenta la corrente d'accordo? quindi se io rappresento le caratteristiche di uscita io mi devo aspettare una cosa del genere questa è ID in funzione di VDS allora se andiamo ad iscriver ecco ops mamma mia io non riesco a fare le dritte non riesco a fare con la tavoletta le cose dritte in questa non riesco a farle mi devo far aiutare da questo aggeggia che ganso però eh questa è la parte più bella allora fate gli scherzi dunque vedete qui quando siamo in interdizione a corrente nulla no? quindi in questa zona vuol dire che sono a VGS più piccolo di VTH e siamo in interdizione a corrente nulla qualunque sia VDS no? non passa niente ora e vabbè quindi quello abbiamo una zona che non ci interessa vediamo ora il canale che si è formato per VDS piccoli io che cosa ho quando VGS è un pochino più grande di VTH quindi il canale c'è ma non è tanto popolato la resistenza del canale non è piccola quindi quest'n è piccolo la i in funzione del campo cresce poco quindi ho un andamento per esempio di questo tipo man mano che aumento VGS aumenta la concentrazione di elettroni quindi aumenta la conduttività del canale e le curve si impendono e aumenta questa pendenza la pendenza è ovviamente una conduttanza della conduttanza del canale quindi queste curve qui salgono all'aumentare di VGS ok poi guardate adesso dobbiamo vedere che succede quando aumento VDS e succede la stessa cosa che succedeva prima in pratica io mi trovo in una situazione di questo tipo di nuovo questo è il canale che succede source e questo è il drain questo è il vds questo è il referencing gate ha un certo valore allora aspettate fatemi vedere se questo mi riesce adesso faccio vi va via così non ce n'è allora dunque immaginiamo così di aumentare la vds ok che succede? a questo punto se aumento la vds avrò che vgd è più piccolo di vgs non posso più dire che sono uguali io so che per essere precisi io so che vgd è uguale a vgs meno vds se vds cresce vgd più piccolo di vgs ok? prima vi ho detto praticamente erano uguali ma ora non posso più trascurare cosa succede cosa succede quindi che tra gate e drain la tensione è più bassa e quindi tra gate e drain di carica c'è nemmeno che tra gate e source giusto? perché comunque come dire la barriera vicina al drain è un po' più grande allora cosa succede quindi? succede che il canale è all'aumentare di vds è sempre più rastremato d'accordo? la stessa cosa che avevamo visto per i jeffers in pratica quando aumenta così quindi 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 all'aumentare di vds aumenta la cauda di tensione sul canale ma il canale si rastrema in questo punto per esempio supponiamo che vgd sia esattamente uguale a vth va bene? che vuol dire vgs meno vds uguale a vth che vuol dire esattamente vds per trovare il valore vds uguale a vgs meno vth ecco in questo momento qui siamo al limite del siamo alla soglia no? vgd uguale a vth vuol dire che qui siamo al limite tra quando il canale c'è e quando il canale non c'è ok? quindi abbiamo il pinch off del canale al drain qui abbiamo il pinch off al drain ok? quindi se io voglio rappresentare la situazione del canale insomma in modo un pochino simbolico no? ho una situazione di questo tipo è un canale ricco vicino al source e poi man mano che il mio vicino è vicino a te in questo canale è sempre più sottile fino a praticamente annullarsi no? perché in corrispondenza della di una vgd uguale a vth vuol dire che siamo al limite tra canale c'è e canale non c'è no? anche se è un'approssimazione eh? questo ve lo dico perché se no poi non si capisce perché poi anche quando si supera questo valore la corrente c'è ancora quando aumento ancora vds che cosa succede? ma insomma ormai avete capito la stessa cosa che succede col g effetti il punto di pinch off si sposta verso al source qui a maggior ragione c'è pinch off al drain ma c'è pinch off anche un po' più vicino al source non esattamente al drain quindi in pratica quello che avviene è un effetto di questo tipo cioè il punto di pinch off si sposta il punto più importante è questo dove c'è pinch off se torniamo un attimo indietro vi posso anticipare già tanto mai avete capito cosa succede quando il canale comincia a rastremarsi la corrente sale non più linearmente con la tensione ma un po' di meno perché il canale si stringe quando si arriva al pinch off invece praticamente la corrente non cresce più di nuovo vale il discorso che abbiamo fatto prima al primo ordine non cresce più perché no aiuto al primo ordine non cresce più perché c'è pinch off in realtà siccome x si sposta verso il source c'è un effetto di modulazione della lunghezza di gate per cui la zona del canale in pratica leggermente si accorcia e quindi c'è un effetto di leggera salita chiaro notate questo effetto è proprio proprio uguale a quello del ovviamente i nomi sono gli stessi di prima i fet si trattano tutti nello stesso modo quindi questa regione qui si chiama regione omica e si chiama omica sia quando è esattamente lineare il comportamento sia quando non è proprio lineare e questa regione qui si chiama regione di saturazione e la separazione tra la regione omica e la regione di saturazione è data dal fatto che si abbia Pg of adremio no? la separazione e la traccio così in pratica è una curva è la curva che mi dice Vds uguale a Vgs meno Vth no? perché l'ho scritto questa cosa? perché è questa curva qui no? Vgs uguale a Vgs meno Vth è la condizione pinch off al drain per Vds più piccoli del pinch off al drain non ho pinch off e quindi sono regione omica per Vds più grandi della condizione pinch off al drain ho pinch off e quindi sono in saturazione d'accordo? quindi questa è il discriminato tra le due cose chiaramente è una curva che sale perché Vgs sale in questa direzione quindi si aumenta Vgs spostandosi verso l'alto aumenta anche Vds per cui si sposta in là siccome mi è piaciuto prima vi vorrei rifarvi vedere un attimo questo grafico qua dell'andamento del potenziale nel canale perché secondo me aiutava a capire le cose dunque il potenziale in funzione della posizione mettendo qua il source e qua il drain ok per comodità ecco questo mi conviene tracciarlo e mi devo ricordare l'altra cosa importante che è il punto che corrisponde al pinch off abbiamo detto Vgs meno Vth e mi devo ricordare anche questo che per esempio questo è Vgs meno Vth quindi allora abbiamo detto che finché Vds è più piccolo di questo siamo in zona omica e quando Vds è maggiore di questo siamo in saturazione allora qui è rappresentato Vds giusto? anzi posso scrivere anche così qui è rappresentato la V in funzione di X allora ricapitolando se Vds è piccola praticamente siamo regione omica regione omica che cosa vuol dire? campo costante corrente proporzionale al campo campo proporzionale a Vds e quindi vale la legge di Ohm quindi lo riscrivo questa cosa che va bene detta così I è proporzionale al campo il quale e questo è l'espressione della corrente di deriva questa è sempre vera no? corrente di deriva a sua volta però il campo è proporzionale a Vds e quindi I è proporzionale a Vds che è esattamente la situazione che abbiamo ora quando aumento ancora prendiamo ancora un po' aumenti oh non ho il mio sorrighello quando aumento ancora un po' ottengo la stessa cosa a un certo punto se aumento ancora comincia a vedersi quell'effetto di rastremazione no? per cui in realtà che cosa succede? poiché I la corrente di deriva è Q per A per N per Mu per E se la N lungo la sezione si riduce deve aumentare il campo per mantenere la I costante va bene? per cui io che cosa vedo? vedo che qua il campo è più grande che verso il source e quindi ho quell'andamento ecco la via se mi riesci a disegnare decentemente che vi dicevo prima la vediamo proprio benissimo un disegno ok? quindi il campo aumenta verso il drain poiché il campo aumenta verso il drain non c'è più questa proporzionalità diretta del campo con VDS no? perché non è più il campo non è più VDS su L perché adesso non è proprio più lineare e si vede bene anche qua perché se il disegno è fatto benissimo che è aumentata la VDS ma la corrente è aumentata di meno di quanto è aumentata la VDS il campo è più aumentato di meno per cui abbiamo quel piegamento delle caratteristiche quando si arriva in questo punto quando VDS arriva in questo punto abbiamo il pinch off quindi cosa succede? vabbè l'andamento qui è più o meno uguale e va bene quando aumento ancora è di nuovo nell'approssimazione brutale che abbiamo fatto noi non c'è più canale non c'è più elettroni nella pratica è un'approssimazione forte in realtà ce ne sono pochi per cui per mantenere la corrente costante lungo tutte le sezioni lì il campo deve essere molto grande in effetti l'andamento è fatto così è molto alto il campo qua e questo si è sposto questo punto qui è il punto di pinch off aumentando VDS appena appena si è sposto il punto di pinch off e in effetti invece il campo dentro il canale non cambia quasi niente per cui la corrente non cambia quasi niente va bene? quindi in quel quasi c'è questo leggero aumento che abbiamo detto prima se ne ripresenta che nel MOSFET la corrente è essenzialmente la corrente di deriva è la parte che conta perché perché di fatto diciamo quando c'è un solo tipo di portatori le zone sono n più n un po' più debole dentro il canale n di nuovo quindi non è come quando una giunzione piena dove passo da portatori da maggiorità da minorità in due regioni adiescenti in questo caso in effetti quel comportamento non c'è allora quindi detto questo possiamo andare a scrivere le regioni di funzionamento del MOSFET a canale n il simbolo non ve l'ho fatto vedere vabbè facciamolo qui il simbolo il simbolo MOSFET a canale n ce ne sono diversi i simboli però hanno tutti un po' una storia allora il simbolo più comune è questo dove anzi aspettate lo faccio meglio ancora ecco questa è una cosa importante è questo qua notate che nel simbolo ci sono quattro terminali e c'è un terminale aggiuntivo che vi ho accennato ma non vi ho poi sottointeso di tanto che è il terminale di bulk body questo sta per bulk che cos'è questo terminale e vedete in pratica se guardiamo la struttura del MOSFET questa regione qui ha un suo potenziale spesso è contattato separatamente ad un altro terminale ed è il terminale di bulk d'accordo quindi per diciamo descrivere compiutamente un MOSFET bisogna usare non solo tre terminali ma anche il quarto terminale il quarto terminale in realtà poi ha comune tra tutti i transistori che sono sulla stessa fetta quindi non è particolarmente rilevante e in alcuni casi invece è messo in corto col terminale di source però spesso viene evidenziato in modo separato e quindi questo è il simbolo completo questa freccia rappresenta la giunzione bulk canale il bulk è di tipo P il canale diventa tipo N quindi la giunzione PN è orientata in questa direzione bene poi c'è un simbolo un pochino più semplificato che è invece questo che questo è molto usato in cui non si disegna il terminale bulk si sottintende la presenza e invece si rappresentano in modo diverso drain e source mettendo una freccia al source che rappresenta la direzione della corrente a me sinceramente piace qui il simbolo sopra perché dà più ragione del fatto che il dispositivo è simmetrico per i drain e source i drain e source sono uguali e attualmente sono uguali è stato un periodo in cui non erano proprio uguali però in questo periodo si fanno uguali i drain e source e è soltanto l'attenzione che applico che mi dice quale è il drain in cui è il source vabbè comunque sono tutte e due simboli che si usano piuttosto comunemente ed è importante conoscerli tutte e due allora le regioni di funzionamento abbiamo interdizione quando VGS è minore di VTH lì non c'è niente da fare tra parentesi VDS è sempre positivo per definizione non lo devo dire già detto poi invece abbiamo due regioni di conduzione per avere conduzione VGS deve essere maggiore di VTH giusto allora in conduzione abbiamo due situazioni diverse una è la regione omica che si chiama anche zona triodo e non vi sto a spiegare perché però a volte trovate scritto questo insomma sappiate che sono sinonimi allora devono essere soddisfatte due condizioni prima di tutto VGS deve essere maggiore di VTH e poi l'avevamo già scritta prima quindi questo è un riassunto di fatto VDS deve essere minore di VGS meno VTH se VDS non è troppo alta praticamente si comporta come una resistenza la corrente più o meno sale linealmente con la VDS in e poi abbiamo la regione di saturazione in cui abbiamo VGS maggiore di VTH questo garantisce il canale e poi la VDS invece è superiore a VGS meno VTH l'uguale va potete mettere dove pare l'uguale siamo alla frontiera tra le regioni è in regione di saturazione che ovviamente il transistore si comporta come un gelatore di corrente controllato da attenzione quindi noi la regione di funzionamento vogliamo per usarlo come amplificatore abbiamo detto che deve avere tutte le caratteristiche di uscita quasi parallele notate questa zona qui è quella che assomiglia al generatore di corrente controllato da attenzione dove le caratteristiche sono orizzontali quindi noi vogliamo cercare di utilizzarla per quello che il transistore è interessante e la regione di funzionamento non è che lo rendono così interessante allora vediamo come sono fatte le espressioni delle caratteristiche del transistore anche per il MOSFET viene bene una rappresentazione in termini di caratteristiche paraboliche quindi diciamo di nuovo come abbiamo fatto per tutti gli altri dispositivi io non vi dimostro com'è che si ottengono vi faccio vedere l'andamento e poi un pochino perché è plausibile rispetto a quello che abbiamo detto finora che voglio far vedere però non vediamo una dimostrazione vera e propria allora vediamo insaturazione vediamo prima insaturazione allora insaturazione in prima battuta a primo ordine la corrente dipende solo da VGS ok e si scrive in questo modo beta VGS meno VTH al quadrato ok questo è l'espressione delle caratteristiche in saturazione vedete ID è funzione solo di VGS trascuriamo la dipendenza da VGS questa è una trans caratteristica se la voglio rappresentare così quindi da un certo punto di vista se io metto in saturazione come ho fatto prima per i JFET e voglio rappresentare i D in funzione di V di e di VGS ho una cosa del genere ho un discrimine qua in corrispondenza di VTH se VGS è maggiore VTH vale questa relazione parabolica quindi parabola col vertice in VTH quindi qui sono in saturazione è ovvio però se VGS è minore VTH non prendo tutta la parabola prendo solo un ramo se VGS è minore VTH è D uguale a 0 quindi qui sono in interdizione di queste qui sono le transcaratteristiche chiaramente anche qui dovrei usare scusate VDS come parametro però praticamente se in prima approssimazione dico che non dipendono da VDS praticamente lo posso trascurare questo effetto d'accordo se voglio evidenziare invece la dipendenza da VDS allora uso un'approssimazione tipo quella che vi ho fatto vedere prima per EJFET cioè vedete è proprio una correzione non è mica niente di più io metto un termine 1 più lambda VDS a moltiplicare così vedete cosa fa questo termine lambda è piccino quando aumenta VDS fa aumentare la corrente a parità di VGS ok questo lambda è tutto è responsabile di tutto se lambda fosse 0 l'effetto non si avrebbe questo lambda si chiama effetto si chiama fattore di modulazione della lunghezza di canale o anche fattore di modulazione del canale vedrete voi che quando facciamo gli esercizi alle volte questo termine lo trascuriamo facciamo finta che valga 1 e via volte quando ci serve invece vedere che effetto ha questo aumento della corrente con VDS lo consideriamo esplicitamente vediamo che effetto ha però è la classica cosa che insomma a seconda di quanto dobbiamo essere accurati nel ragionamento includiamo oppure no ok l'ultima cosa che invece vi devo dire su questo punto è che cos'è questo beta che sembra un pochino misterioso così com'è allora beta e di nuovo anche questo ve lo dico ma non è che ve lo dimostro è questa cosa è COX per mu per W su L fratto 2 si chiama anche il beta del transistore ed è interessante perché beh in pratica aspettate vediamo bene facciamo un disegnino in 3D allora vediamo se viene ta e ta allora se io faccio la sezione voglio farvi vedere la sezione farvi vedere anche il dispositivo dall'alto no quindi questa è N+, questa è N+, questa è P questa è la classica sezione del MOSFET che abbiamo visto sopra no questo qui è il gate va bene allora visto dall'alto tutto il rettangolo il gate è un rettangolo questo qui è il source per esempio che è un altro rettangolo questo è il drain qui ci sarà il contatto di source che tipicamente ora facciamo un po' meglio questo contatto di source in realtà sarà un padellone un bel padellone così qui ci sarà il contatto di drain ora a me non interessa tanto questo quello che mi interessa per vedere è che il gate avrà una certa lunghezza che abbiamo definita anche prima che è questa L qua questa L è la lunghezza di gate ok la distanza tra il source e il drain e la W è la larghezza di gate ok quindi questa L e quella W sono larghezza e lunghezza dei gate mu è la mobilità che abbiamo sempre visto quel COX invece è la capacità dell'ossido è la capacità della struttura MOS per unità di superficie quindi questo COX è in pratica ε0 εR dell'ossido diviso lo spessore dell'ossido una capacità a facce piane parallele a questa espressione la ε diviso la distanza tra le due facce che è l'ossido e lo spessore dell'ossido in questo caso per la superficie questo lo faccio per una superficie unitaria e viene così quindi questo T-OX è lo spessore dell'ossido quindi è la distanza tra le due facce della capacità perché la faccia superiore è il contatto di gate e la faccia inferiore è il canale questa è la capacità dell'ossido va bene mi interessa semplicemente far vedere questa cosa questo beta dipende da alcuni parametri del materiale che sono C-OX e Mu e poi W e L che sono le geometrie del dispositivo quando si progetta un circuito integrato in realtà il progettista ha sotto controllo W e L può scegliere W e L di ciascun transistore ma il resto no il resto è dato la mobilità è quella per quel processo lo spessore dell'ossido è quello non si cambia quindi quelle C-OX e Mu sono delle specifiche del processo uno che fa la progettazione del circuito quelle cose non le tocca diventano dei vincoli W e L invece sono i parametri che si possono variare quindi variando W e L si riesce a variare abbondantemente il comportamento del transistore per completare vediamo in zona omica sempre le caratteristiche in zona omica ecco la caratteristica si scrive in questo modo è beta Vgs meno Vth per Vds meno Vds quadro mezzi con due davanti questa è l'espressione è un'espressione approssimata abbastanza usata anche questa è un'approssimazione un po' forte ma insomma dai è accettabile perché si fa così perché alla fine un'espressione parabolica come questa si riesce a trattare anche analiticamente ma poi uno deve fare un conto accurato allora usa un'espressione più dettagliata più precisa ma lo fa con il calcolatore allora vediamo che torna questo ragionamento con la zona omica innanzitutto vedete questa è una parabola con la concavità rivolta verso il basso deve tenere conto del fatto che le caratteristiche fanno così e poi scendono quindi una parabola i in funzione di vds in zona omica è fatta così quindi c'è prima la parte lineare complessivamente una parabola rivolta verso il basso quando notate se vds è piccolo se vds tende a 0 il termine quadratico si può trascurare o i proporzionale a vds quindi esattamente l'andamento che dicevamo prima non solo ma la costante di proporzionalità aumenta quindi la pendenza aumenta se aumenta vgs che torna con quello che vi dicevo ok quindi in questa è la cosa la prima cosa importante da vedere quando vds non è proprio quasi 0 c'è questo rispetto del meno vds quadro che fa piegare la curva e poi l'altra cosa interessante è far vedere che si congiunge con quella insaturazione perché se io vado a calcolare se vds è uguale a vgs meno vth che è il limite tra la zona omica e la zona di saturazione dovreste vedere bene che questa curva diventa uguale a quella di saturazione no? perché viene qui vgs meno vth al quadrato meno vgs meno vth al quadrato fa un mezzo vgs meno vth al quadrato e il 2 si semplifica con questo 2 e trovo l'espressione di prima quindi la curva in zona omica si raccorda con la curva in zona di saturazione e questo è giusto perché sarebbe ragionevole altrimenti